I fiori in ogni occasione è il momento della nostra assistenza, l'acqua e il mare, l'oceano e il dono. Bello, bello questo, sì, anche questa mano, la mano, perché la mano ha un grande pipiera, rappresenta la forza, la femminilità, il fare, il darci, il faro. Anche il calore umano che si trasmette attraverso una mano, diciamo. E' tutto quello che è la magia, tutto quello che una mano fa. Esatto, esatto. Ecco, qui andiamo sul metafisico. Ah, ok. Ecco, sì, questi sono quadri che sono molto, molto complicati, che però ognuno di noi può dare la sua interpretazione. E va anche sul tecnologico, no? Anche sul tecnologico, sulle geometrie, ci sono dei quadri con le squadrette. Sì, direi anche di lasciare volare la fantasia, che vede un uomo e una donna, quindi l'amore.